Buongiorno, Giorgio D'Andreis, sì, l'ho detto bene. Un saluto dalla Spagna, grazie per l'amistizia. Io sono un tenore vecchio, o un vecchio tenore, un vecchio tenore, meglio dirlo così, da 70 anni. Ho una passione grandissima per il canto, da tutta la mia vita, da piccolino, da ragazzino. E voglio cantarti un'aria, non è facile, ma tenterò di farla bene, che è l'improvviso dell'Andrea Chenier, di Umberto Giordano. Per te. Colpito qui in marette, o mio glieloso cielo, il più puro palpitar nell'anima. Or vedrete, fanciulla, quale poema è la parola amore. Qui, cauce di scherno. Un dia all'azzurro spazio guardai profondo. E ai prati col mirivione, pioveva l'oro il sole, e folgola a bagono il mondo. E a lei serviva di scrigno. Su dalla terra, alla mia fronte, veniva una carezza viva. E a lei serviva, maccio, grigai bintonna amore. 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 E a lei serviva, maccio, grigiano, e li armi con coppia. Mi sento, grazie, grazie, ragazzano, a lei serviva. Barcai degli avi tu riluscio, un uomo di calumnia va besteggiando il suono che l'erario appena sazia. E contro a Dio scagliana, e contro agli uomini le lacrime dei fedi. In cotanta miseria la Patrizia prole, che fa? Soll'occhio vostro sprime umanamente qui un guardo di pietà. O mio guardato a voi siccome un angelo, venissi e con la bellezza della vita, ma toglie le vostre parole un novello dolor, ma col tuo in pieno petto. O Dio, minetta bella, Ad un poeta non disprezzate il netto, Unite, non conoscete amore. Amore amore, mi vino amore, non lo sternir del mondo, anima e vita e l'amor. Bene, bene, bene. Bene, io ti dico, io ho una tecnica, certamente, e questa tecnica io l'ho imparato dal mio carissimo e indimenticabile maestro Alfredo Krauss, là nel lontano 1972, che mi ha ascoltato e al momento di ascoltarmi si offrì generosamente ad essermi il mio maestro. Ho studiato con lui, ho viaggiato con lui per Italia, dove doveva andare per i suoi contratti, con diversi teatri d'Italia, Scala, Genova, Torino, Napoli, Roma, eccetera, Londra, Lisbona, Spagna. E da lui ho imparato la teoria che mi permette ancora di cantare un po'. Ho 70 anni, come ti ho detto, e non so fino a quando io potrò conservare la voce. però ringrazio Dio che ancora posso cantare. Bene, ti mando un grande abbraccio dalla Spagna, dalla Corugna, la Corugna è una città sopra Portogallo, all'Atlantico. Un grande abbraccio e continuiamo a parlare, se tu lo vuoi. Ciao!